Sono in arena, Carol Stanford, ultimo binomio. Ricordo che è la scorecard, è il primo. Grazie. 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 Ultimo binomio della serata. Ricordo che è la score, sullo scorecard. Binomi in arena delle premiazione. La loro parte non deve essere premiato nel 10. Abre la mia offerta. Un tempo è 66, 66. Un tempo è con questo cavallo perché è l'interporto con Barry Prusen, è di 66. Si conclude così la manifestazione.